Ciao a tutti, sono Fabio Mandelli, team manager del team BRT. Il nostro team quest'anno compie 14 anni e siamo passati da un marchio precedente che era Honda a SVM. È un marchio storico italiano, stiamo crescendo sempre di più e i risultati in questo momento ci stanno confortando. Il nostro programma è triennale, però quest'anno non neghiamo che abbiamo l'ambizione anche già nel primo anno di raggiungere un traguardo di quelli che contano. Ciao a tutti, sono Edgardo Borella e curo quest'anno con SVM. È il primo anno per noi e anche per questa azienda. Siamo partiti già dello scorso anno per sviluppare più materiale possibile e siamo qui adesso alla quarta prova e ci ritroviamo terzi in campionato e secondi tra gli italiani, tre piloti italiani. Il fatto di questo inizio di campionato, anche se comunque ho avuto un po' di sfortuna nella scorsa gara pomposa, però comunque siamo a ridosso delle prime posizioni e cercherò di portarlo in fondo fino alla fine. Stiamo sviluppando la moto gara per gara e di questo mi sono molto contento e ringrazio tanto SVM e tutto il team. Vediamo se riusciamo ad arrivare a un buon punto per comunque essere sempre presenti nelle prime posizioni e cercare la vittoria in tutte le gare. Ciao ragazzi, sono Marc Reiner-Schmidt e qui vivo da Viterbo, la quarta round dell'Italian championship. Sono pronti, oggi facciamo molti testi in il team. Eddie e me facciamo alcuni buoni lavori e SWM e il team BRT stanno lavorando molto forte e molto bene oggi. Siamo preparati tutti per l'inizio per l'inizio e spero che vi faccio più due volte in Italia. Alla prossima. Mi piace il track, abbiamo buon weather, quindi tutto è perfetto. Siamo arrivati a presto a presto, spero. Ciao!